Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi andiamo a vedere Adacardano, che come Cro, Grass, Arweave, Pol, che in questo momento sta veramente, forse nell'ultima ora, ha fatto un bel pump del 2%, beh, stanno performando, sovra performando il mercato, andiamo a vedere perché, andiamo a fare una price prediction di questi token, insieme andiamo a vedere un po' quali sono i prezzi che potrebbero toccare queste coin. Innanzitutto voglio dire che Adacardano sta facendo una performance buona già da inizio anno, ma se andiamo a vedere il suo grafico qua, dal 4-5 di agosto è in uptrend costante, insieme a BTC, che sta riprendendo questa ultima leg up. Minimo toccato intorno ai 20 centesimi, in questo momento ci troviamo a 1x2 dei minimi, quindi veramente una buona performance anche per Cardano. Eccolo qua, Cardano che ha un circulating supply in questo momento che conta al 77.78%, con un inflazionamento del token, che se andiamo a vedere il grafico market cap effettivamente price, ok, c'è una discreta differenza, non esagerata, ma c'è una discreta differenza. L'inflazionamento c'è, non è così rapido, ma vi assicuro che l'inflazionamento c'è, assolutamente c'è. È uno dei layer 1, numero 9 in questo momento su CoinMarketCap, che ha scalato tra l'altro, ha un sacco di volume in questo momento, veramente molto molto volume, che ultimamente si sta comportando un po' meglio, andando a prendere praticamente i massimi degli ultimi 6-7 mesi. E perché si sta comportando in questa maniera? Si sta comportando in questa maniera per diversi motivi. Il primo è che la Dominance Bitcoin sta calando, e qui l'abbiamo visto, sapete che quando cala la Dominance Bitcoin, le Alcoin performano meglio di BTC, numero 1. BTC si trova in area di massimi, quindi siamo sopra gli ATH scorsi, Cardano sta facendo massimi crescenti dal 4-5 agosto 2024, ed Ethereum anche ha rotto per la prima volta una trend discendente che dura da praticamente luglio-agosto del 2024, proprio nei scorsi giorni, andando a raggiungere quota quasi 3.000 per Ethereum. Quello che mi aspetto è magari un ritest di questa trend per poi, in caso riinizierà a ripartire, ci vorranno probabilmente dei giorni per il ritest, qualche giorno per il ritest, se poi in caso si tornerà a ripartire, Cardano è partita anche per questa notizia. Huawei supporta il decentralized computing network on Cardano. Quindi ragazzi, un'azienda come Huawei, che comunque è molto molto grande, ha deciso di utilizzare Cardano per il decentralized computing network, quindi insomma per lo sviluppo dell'AI e della blockchain. Quindi insomma, siamo veramente a una notizia di dimensioni abbastanza grandi, e anche per un progetto come Cardano, che comunque se andiamo a vedere su quel market cap, cavolo, a 15 billions di market cap, al numero 9, non è proprio poca cosa. Consideriamo che nello scorso, nei scorsi massimi abbiamo raggiunto un 93 billion, quasi 100 billion di market cap, ora siamo a 15, quindi praticamente 6 volte in meno. 6 per 4, 24, ovvero 2 dollari e 4 per Cardano, se dovessimo raggiungere con questa tokenomics i 90 billion, 93 billion circa, ok? I massimi toccati sono stati 3 dollari e 10, e quindi ecco qua che si vede l'inflazionamento del token. È possibile arrivare a 3 dollari e 10? Facciamo la nostra price prediction? Probabilmente no. Probabilmente per Cardano faremo molta fatica ad arrivare a 3 dollari. Questo è il mio parere personale. E se prima pensavo che Cardano potesse arrivare a 3, 4, anche 5 dollari, magari 4, 4 e mezzo, quindi fare un per 10 da adesso, sento di dire che inizia ad essere molto molto complicato. Ma per diversi motivi. Andiamo su quel market cap. Cardano è un layer 1 che sta sviluppando, sta sviluppando bene, ma non alla stessa velocità di molti altri progetti, come per esempio Solana, come Ethereum che sta mettendo il turbo ultimamente, Tron non sta facendo niente, ma Toncoin, Avalanche, possiamo vedere Sui, possiamo vedere, ok, Niar, possiamo vedere Internet Computer, non troppo in questo momento, un po' sotto le righe, possiamo vedere, dove cavolo è, Injective, eccolo qua, Injective che sta sviluppando molto 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 bene. Insomma, ci sono dei layer 1 che ruberanno necessariamente, come secondo me lo ruberanno anche ad Ethereum, ruberanno necessariamente Market Cap a Cardano, che secondo il mio parere rimarrà un po' indietro, a causa della sua lentezza. Si sta sviluppando in modo molto 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 lento, perché mentre Ethereum può godere di essere la prima altcoin di rilievo, quindi di essere la regina dell'altcoin, e quindi magari si farà ancora spazio rispetto al resto del mercato, Cardano non si può vantare di essere la prima altcoin di queste dimensioni. Anzi, sì, è vero, forse lo è stata insieme a XRP, ma in questo momento non si trova più al primo posto e non c'è poi così tanto utilizzo. Quindi la mia prescription per Cardano va ad assottigliarsi e non di poco. Se prima pensavo che potessimo arrivare sempre all'interno di questo range, quindi tra i 4, magari più su 1.618, in questo momento mi troverei più comfortable ad andare ad un range tra il 0, 6, 1, 8 e l'1, quindi tra i 2 e i 3 dollari, che per quanto riguarda il prezzo di ora, in termini di moltiplicatori, siamo da 1x5, 1x4, diciamo, 1x5, 1x4 dal prezzo attuale, che è di, sì, quasi 1x5, 1x5 scarso, a 1x7, 7,5, non di più, non vedo più assolutamente il x10 o anche più sul prezzo di Cardano. Vedo un Cardano che possa andare tra, insomma, tra questi due Fibonacci Retracement, quindi 0, 6, 6, 1, 8 e l'all time high scorso, quindi tra i 2 dollari e i 3 dollari circa. Questa è la mia opinione che ho di Cardano in questo momento storico, onestamente. Quando ancora non sta prendendo lo spazio, che aveva negli scorsi cicli. Può sorprendermi? Non può sorprendermi? Non lo posso sapere, ma questa è la mia idea per Cardano in questo momento. Ci aggiorneremo ovviamente, ci teremo aggiornati, riprendono le price prediction sul canale con cadenza molto più regolare, perché è arrivato il momento di iniziare a capire i movimenti dell'alcoin rispetto a BTC. Avremo secondo me ancora 1-2 mesi dove BTC può ancora solo performare l'alcoin, ma poi inizierà questa famosa e fantomatica Alcoin Season che ci accompagnerà, secondo me, fino ai massimi che arriveranno nel 2025. Da Boss Capitano è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti